Franco Moscone, notizia di questi giorni, di alcuni episodi un po' strani verificatisi nei pressi della chiesetta della Madonna degli Angeli a Monte Sant'Angelo. C'è chi parla anche di riti satanici. Che c'è di vero? Lei che sa di più? Io non so nulla di più di quello che mi ha detto lei e che mi era stato riferito. Al di là dei riti satanici o meno, io affermo in genere questo, che il paganesimo è sempre alle porte ed è sempre attivo. Riti pagani continuano a far parte purtroppo anche della nostra cultura e dei nostri ambienti. E molte volte questo paganesimo è occasione per fare un salto ulteriore e cadere dentro anche il demoniaco. Adesso se questi riti hanno questa caratteristica non lo so e non mi azzardo neppure a prendere una posizione e a dire è così o non è così. avverto che hanno tutte le caratteristiche del paganesimo e il paganesimo è sempre presente nella cultura. Riti pagani, nascosti magari sotto New Age di vario genere, continuano ad esserci comunque e sono in crescita. E sono in crescita anche in Italia e immagino nel nostro territorio. La posizione della Chiesa qual è? La posizione della Chiesa è quella di annunciare il Vangelo. Insomma, se ritorniamo ad un'epoca pagana, fondamentalmente ritorniamo alle origini, ossia al nostro dovere di annunciare il Vangelo e di dire che questa non è la linea per raggiungere Dio, ma è la linea per essere disfatti da forme di divinità idolatrica che alla fine ingannano l'uomo e ingannano la natura. Grazie a tutti.